Vincenzo Salerno, consigliere comunale, oggi in programma un'altra seduta del Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle, un appello, un invito ai consiglieri comunali, ascolta il Consiglio, diserta il Consiglio. Che cosa sta succedendo? Il nostro appello non è di disertare il Consiglio sicché sempliciter, ma di disertare per protocollare in maniera contestuale le dimissioni, perché con 13 dimissioni contestuali, qualora dovessero arrivare quest'oggi, si avrebbe la possibilità di poter andare alle urne già subito dopo l'estate. Le criticità sono un po' in tutti i campi. L'amministrazione in questi tre anni ha dimostrato di aver fallito un po' ovunque, l'unica nota rimarchevole, ma fino a un certo punto è stato il cambio di gestione dal sistema Borrello di raccorta differenziata, che era un unicum nel suo genere e anche ancora sotto la lente di approfondimento da parte di altri, al porta a porta. Non è solo l'igiene urbana, c'è una criticità quotidiana all'ufficio anagrafe, c'è un immobilismo all'urbanistica, non c'è un piano di sviluppo turistico, territoriale e di ripresa cittadina. Non ci sono luci accese in fondo al tunnel. Come ha scritto stamattina sui social il sindaco, vogliamo vedere chi dimostrerà il proprio valore, anche se non è in piazza all'appuntamento che si parrà la nobilità dei presenti, ma andremo a vedere chi è che dimostra di non avere a cuore la città e quindi di avere poco valore presentandosi in consiglio e continuando a portare avanti e ad appoggiare questa amministrazione fallace. Dall'insediamento di questa amministrazione palomba, che cosa ha fatto invece l'opposizione per pungolare la maggioranza? Noi abbiamo avuto dei comportamenti costruttivi fin quando c'erano le possibilità di poter proporre o aggiustare il tiro di alcune situazioni. Quando vedevamo delle situazioni totalmente contrarie al nostro modo di vedere e all'interesse collettivo, secondo la nostra opinione, abbiamo cercato di opporci con tutte le nostre forze. Secondo lei le altre forze di opposizione aderiranno a questo appello del Movimento 5 Stelle? Mi è sembrato di aver sentito già che ci sarà annunciata la presenza del collega Cardarola, Ciavolino, Piccirillo, Guarino Vittorio. Poi c'è curiosità nel sapere la posizione che prenderà Forza Italia. Sono curioso di sapere poi soprattutto chi della maggioranza o dei transfughi dall'opposizione alla maggioranza avranno rivalutato anche l'operato di questi sei mesi e abbiano effettivamente maturato una convinzione che, ripeto, è diffusa in città perché sfido chiunque a dirmi un settore in cui l'amministrazione ha davvero inciso di essere impositivo.